e finisce il giro con il maestate però non la città non la faccio alla prossima luna certo ciao ricordate che abbiamo detto la promessa di salire da coppia avventura stiamo andando siete pronti? prontissimi l'uovo di pasqua pronti? prontissimi pronti? 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 Sopra! Io faccio il caffè! Questo guarda la partita eh! Sopra! Che chiede sei un figlio dei magli eh! Andiamo a bercè una birra! Ah fai la video in diretta? O per te? No per noi! Però sono i nostri amici! A voi! Grazie! Salute! 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 Oye guapa! Buon giorno! 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 Big cappuccino! Buon giorno! Buon giorno! Eccoci qua! Buon giorno! Buon giorno! Buon giorno! Buon giorno! Buon giorno! Buon giorno! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Ciao Michele, piacere Ciao 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 Come andiamo? Tutto bene? Bene Buon viaggio Bene Ciao Grazie Buon viaggio Buon viaggio Quindi Ci mettiamo in viaggio? Vai Vediamo Grazie 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 Buon viaggio Buon viaggio Buon viaggio Vai Siamo pronti Dai Buon viaggio I Buon viaggio Buon viaggio Siamo di dozzo, eh? Ehi, Vicky! Eccolo qua! Eccolo qua! Un pezzo di terra alzita! Dillo a lui che lui fa il fango! Ha dichiarato che era bagnata qua! Dillo a lui! No, non ci fanno salire in nave domani! No, no, aspetta! Teddy! Come and see! Allora, la merda! Azzurri di 35enne Azzurri di 35enne Azzurri di 35enne Siamo iniziata! Azzurri di 35enne Un non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non, che bello il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info è risaputo che noi si sbagli a strada con e senza navigatori, se no non saremo noi, come da noi, dai, chi ci segue lo sa, ogni poi non sa male di aprire le strade, poi c'ha la traccia, ma lui di garba lo schermo nero, no, di basso, e non si vede alle tracce, comunque abbiamo capito, se no torniamo un pizzettino, torniamo, torniamo, non c'è nessun problema ragazzi, bene. A presto. Cinta senese, questa è buona, buona, molto buona come carro. No, 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 no. No, 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 no l'ho sbattuto, io ne la tieno. Salute, buona Pasqua ragazzi. Ma prendo due seggiorine? No, non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo anche noi. No, non ce l'abbiamo. 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 Allora noi facciamo fuoristrada, poi ci blocchiamo, mangiamo, fuoristrada, mangiamo, beviamo, ci riblocchiamo, mangiamo, beviamo. No, non ce l'abbiamo. 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 Eccoci Stretto? Passaggio stretto Mi piace la vostra casina E certo Allora a Tempio c'è solo un bar che ha le 66 Giusto o mi sbaglio? Giusto, giusto, giusto Abutti Piro d'Ors Ragazzi Le 66 Crosa Finanza Salve buonasera Buonasera Una sera a postiglia Un paniere lo troviamo No, non so E se siete venuti Penieri eh Ebbene sì raga E' finita la giornata Ci vediamo domani Buonanotte